Tante iniziative, siamo a Mondolfo che a Marotta, a Mondolfo avremo il Natale più bello nel Borgo più bello, il 9 dicembre e il 16 dicembre, quindi ringraziamento all'associazione Proloco Tre Colli che si è occupata di tutto l'addobbo assieme ai tanti volontari, davvero ringraziamento da parte mia personale, a tutti i volontari che nelle settimane scorse si sono preoccupati e adoperati. per addobbare in meglio il centro storico di Mondolfo, mentre a Marotta l'8 dicembre, sabato 8 dicembre avremo una festa di Natale in piazza dell'Unificazione con l'aiuto della Proloco di Marotta e di altre associazioni del territorio, sempre di Marotta, il ricavato sarà in beneficenza al cubone di Cibiana di Cadore in provincia di Belluno. Quindi tante iniziative, sfondo anche solidaristico come sempre in linea con le linee di questa amministrazione che ci tiene ad avere un impatto anche sul sociale importante. Sì, in ogni evento mettiamo sempre la solidarietà, quindi c'è stata questa strage, questo maltempo nel comune di Cibiana di Cadore, li abbiamo voluti aiutare in questo modo e loro ci hanno mandato i loro alberi che abbiamo posizionato sul territorio, in particolare sulla parte di Marotta. Però le iniziative sono davvero tante, oltre alla beneficenza, le associazioni del territorio ci aiutano e ci teniamo davvero molto, infatti quest'anno nel bilancio comunale abbiamo anche aumentato i contributi per quanto riguarda queste iniziative natalizie e le luminarie che sono incrementate. Siamo Mondolfo e Marotta.